riprendiamo 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 benissimo the new zealand story un gioco del 1988 della taito ci giocavo quando avevo 7 anni nel 1990 andavo nel bar del paese e nel bar del centro di modigliana provincia di forlì cesena e niente giocavo questo gioco che era troppo troppo difficile da finire interpretiamo la parte all'epoca ero troppo piccolo non riuscivo non sarei mai riuscito a finirlo interpretiamo la parte di un kiwi a modigliana c'erano le piantagioni di kiwi il kiwi tante cose sembrava un gioco fatto apposta insomma mi ha segnato l'infanzia sto gioco e adesso sono lieto orgoglioso di portarlo su youtube di completarlo su youtube e quindi andiamo a cominciare c'è un kiwi che fuma intanto proprio un bel esempio per i bambini questi kiwi vengono rapiti dallo zoo da un tricheco uno dei kiwi riesce a scappare ed ha quindi il compito di salvare tutti gli altri i kiwi come è risaputo sparano le frecce come vedete è un gioco molto semplice molto stile anni 80 si salta si spara si nuota si vola ma è tutto molto si fa tutto con due bottoni salto e sparo è semplice tanto semplice dei controlli quanto difficile nella difficoltà proprio ma per fortuna vengono in nostro soccorso i warp i warp ci fa e poi ci sono le lettere della parola extend che ci danno una vita in più fortunatamente adesso nuoto in questo specchio d'acqua come vedete l'ossigeno viene meno devo uscire velocemente da questo specchio di acqua c'è quella specie di medusona con un tentacolone eccolo che sta affogando no non morire pulcino ci sono dei nemici ma ecco altre lettere prendendo il warp sono andato subito dall'extend e adesso vado ad affrontare il boss una balena congelata gli animalisti non vorrebbero mai una balena congelata perché non accetterebbero mai gli animalisti di oggigiorno una balena congelata perché la balena è una specie protetta ma agli anni 80 negli anni 80 tutto si poteva per cui va bene anche la balena congelata devo ucciderla dai come avete visto siamo entrati dentro il boss praticamente il boss era una piattaforma era come in shadow of the colossus questo gioco ha anticipato di anni produzioni ben più moderne è un capolavoro videoludico ormai dimenticato però che contiene delle chicche delle perle veramente niente male dai ce lo devo fare a finirlo è un casino sto gioco è troppo un casino no sono arrivato su troppo presto qui ci doveva essere un ufo però dovrebbero apparire lo stesso se aspetto solo che via ok sono riuscito a fregare il mio come vedete si può volare con questi mezzi di trasporto che noi rubiamo ai nemici e niente una cosa abbastanza innovativa anche questa per l'epoca che rendeva il gioco molto divertente ho preso la papera qui perché serve per arrivare al warp al prossimo warp cioè noi non dovremmo andare al warp dovremmo liberare quella spesso quei pulcini quei kiwi che stanno in giro per la mappa tipo questo qui quello è la fine del livello ma io vado avanti in questa scorciatoia segreta e apro il warp perché sono un giocatore troppo avanti e c'è un warp anche nel warp questa è la zona del warp qui dentro c'è un warp pensate che roba stupefacente ecco qui warp nel warp incredibile solo negli anni 80 si poteva fare una cosa del genere cioè mettere un warp nel warp al giorno d'oggi non ci sono neanche warp devo ammazzare tutti sti draghi prende la lettera t e la lettera e aiuto e poi si aprirà un altro passaggio e vai e vai così e siamo arrivati a livello 3 4 con questi semplici trucchi abbiamo saltato tutto il secondo mondo fantastico e praticamente tutto il terzo mondo siamo arrivati alla fine del terzo mondo qui ci sarà un boss da affrontare morite stronzi moro via con sto cancro che è una specie di palloncino metallico che è protetto da eventuali attacchi cioè non esplode se viene attaccato da frecce varie andiamo su per questo specchio d'acqua tra l'altro come notate la teoria dei vasi comunicanti è un'opinione in sto gioco devo riuscire a prendere la lettera n e la lettera d e non devo affugare ecco sputo acqua per recuperare ossigeno supera sta specie di riccio di mare viola e qua giù ci saranno le letterine ecco qui mi tirano delle asce ma io glisso via abilmente e ho recuperato l'extend ok ok recupero sto palloncino metallico e volo via vado ad affrontare il boss ecco qua come si affronta sto boss ma è semplice è una stronzata bisogna attaccare bisogna schivare bisogna attaccare e schivare ed ecco fatto morto il boss era una specie di bambola di matrioska robotica lanciamissili ma certo certo è normale così nelle teste dei giapponesi è normale così allora volo via perché c'è un altro warp qua su nei cieli nei cieli voi sputate fuoco a vostra sorella dai che quelli miei uccidono ce l'ho fatto ho preso il warp andiamo avanti così sono arrivato al 4-4 direttamente è bello così saltare interi mondi ma del resto sto gioco è talmente difficile che se non facessi così col cavolo bisogna anche sapere dove sono i warp quindi bisogna essere bravi a saperlo nooo questo ormai mi ammazzava avevo appena finito di dire che sono bravo arriva un coso li sbuca da nulla e mi ammazza devo riuscire a distru... devo aspettare che esplodano questi cosi per poter passare ah ecco ho trovato la bomba fortuna con lo sparo normale non li distruggevo ma con la bomba si grande bomba grande bomba utilissima sembra metal slug con questi cambiamenti di sparo adesso devo aspettare che arrivi la papera ecco poi devo volare via molto attentamente questo coso qui mi mette un po' in difficoltà ma gli bombardo il culo e l'anima eh questi bei giochi di una volta aiuto molto semplici tanto semplici quanto difficoltosi semplici semplici nei controlli e difficoltosi invece di tutto il resto vale warp su warp io proseguo indomito e selvaggio oh l'orologio bello quello che mi serviva che ferma che ferma quei maledetti gatti che avrebbero infestato allora devo prendere la papera dai si si ce l'ho fatta ce l'ho fatta morite tutti pezzenti non c'è un boss alla fine del quarto mondo però c'è questa nave vichinga infestata dai nemici ma c'è un trucco per superare quest'area basta mettersi qui con la papera no no che sfiga vabbè ve lo faccio vedere ho perso una vita ho perso una vita inutilmente bisogna mettersi qui con la papera farsi colpire morendo tocchiamo la gabbia quindi liberiamo il prigioniero non perdiamo la vita e superiamo il livello è un glitch che non so se i programmatori hanno inserito volutamente o una cosa fatta apposta perché mi sembra strano che ci sia la gabbia lì e quelli che ti sparano dal basso verso l'alto proprio lì se una cosa voluta dai programmatori sono dei geni se no è genio chi ha scoperto questi trucchi che sono trucchi che ho scoperto vedendo partite di altri giocatori su youtube non è farina del mio sacco altrimenti avrei finito il gioco all'epoca nel 1990 quando ero un bambino invece finire sto gioco era una cosa al di fuori della portata dei giocatori dell'epoca al giorno d'oggi si sanno tutti i trucchi ma all'epoca mica si sapevano tutti sti warp che conosco io sti trucchi per superare il 4 4 io vedevo gente che moriva andava in paradiso perché in questo gioco quando si muore si va in paradiso e dal paradiso si può uscire vedevo gente che per arrivare al quinto mondo si uccideva al 4 4 poi andava in paradiso e usciva al 5 1 e poi arrivavano al 5 1 con una vita cioè con 0 vite praticamente morivano io invece riesco ad arrivare al quinto mondo con 5 o 4 vite e questo mi da un discreto vantaggio e la possibilità di completare il gioco con un solo credit ma all'epoca non ho mai visto nessuno completare il gioco ho visto qualcuno arrivare al quinto mondo e basta figuriamoci completare il gioco io quando ero un bambino forse arrivavo alla balena forse delle volte superavo la balena ma avevo 7 anni sono passati 26 anni mamma mia no 25 mamma mia come vuole il tempo questo gioco ormai ha 30 anni nel 2018 compierà 30 anni mi sembrava giusto tributarlo facendone un video per youtube aiuto l'ho tributato l'ho tributato scendiamo giù questo livello è un labirinto conoscendo la strada è semplice no merda eh bisognava andare a tempo ho spallato il tempismo che sfiga ma non ha importanza ho ancora tre vite forse ce la faccio ho ancora tre vite dovevo essere più concentrato non devo parlare è difficile parlare registrare un video e allo stesso tempo giocare a uno di questi vecchi videogiochi old school devo stare zitto e concentrarmi ho troppe distrazioni allora qui si salta come vedete la strada la conosco ma immaginate un giocatore alle prime armi che si ritrova ad avere a che fare con un livello come questo e non sa dove andare ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta adesso supero questo questo livello è abbastanza una stronzata anche qui bisogna sapere la strada solo che qui si vola non sapendo la strada anche questo è un bel casino ok sono arrivato all'ultimo livello vediamo se riesco a superarlo con tre vite che culo che culo dai vieni qua stronzo buttati di sotto mi piace non sapere la strada che non sapere la strada non sapere la strada non sapere la strada Oh Ce la devo fare Dai ce l'ho fatta Che culo Che culo ce l'ho fatta Ho trovato l'ufo Che culo rotto E questo è il finale del gioco I kiwi Tornarono a vivere insieme con tanti loro amici Pippi e la femmina Tiki e il maschio Eh si un giorno Pippi e i suoi compagni furono rapiti Vai si ripete la trama Da una foca leopardo Ah è una foca leopardo scusate Che venne dall'oceano antartico Help me La foca leopardo Vendeva i kiwi in molti posti Tiki affrontò un viaggio Per aiutare Pippi e gli altri amici Per uscire dai posti pericolosi Insomma va beh Lo sappiamo E qui se ne vanno via insieme Dovresti conoscere bene la storia dopo questo punto Perché tu hai fatto la storia stessa da solo You will make the story after this by yourself Un inglese molto giapponesonico Insomma il cosiddetto English Inglese maccaronico Fatto dai giapponesi Ce l'ho fatta non ci posso credere Non solo dopo 30 anni ho completato sto gioco Dopo 25 anni Ma sono riuscito anche a realizzare un gameplay da mettere su YouTube Sono riuscito a giocare e registrare e fare Fantastico Fantastico Sono contento Voi non sapete quanto sono contento Si conclude un capitolo della mia vita Thank you for playing See you again Si conclude veramente Vi volevo far vedere anche il paradiso magari Ma un'altra volta Mi fa inserire il nome Allora il mio nome è Mannes Quindi ho fatto meno punti rispetto a quelli che avevo fatto in un'altra partita Ma è grave Ma è grave Ma... Ok Sono secondo Vabbè È lo stesso Per un centinaio di punti vaffanculo Vabbè grazie grazie a tutti Arrivederci Grazie a tutti Con fin A presto A presto Grazie.